Frate Dino Dozzi che è uno degli organizzatori del festival, fiducia oltre la paura, che cos'è che vi ha stimolato per quest'anno a questo slogan, a questo titolo del festival? Perché abbiamo l'impressione che abbiamo poi constatato che con questo covid, questi distanziamenti, queste mascherine e poi l'incertezza finirà, non finirà questa epidemia e poi quando sta per finire questo covid ecco questa guerra alle porte di casa che crea davvero preoccupazioni in molti. E poi il gas chiuso, aperto, avremo l'inflazione che arriva, avremo un inverno senza riscaldamento, riscaldamento limitato, ecco la paura sta avvicinandosi alle persone. E noi pensiamo che avere paura degli altri come portatori di infezione, di virus eccetera, avere paura degli altri tanto da farsi guerra. Ecco, è un tema quello della fiducia che riteniamo di enorme importanza, non possiamo continuare ad avere paura degli altri, abbiamo bisogno di recuperare fiducia non solo tra di noi, ma fiducia anche nel dialogo tra i responsabili dei popoli, fiducia nel futuro, fiducia nella buona volontà, nella saggezza dei popoli che debbono anche prendersi cura della casa comune. Ecco, la fiducia ci pare la base per ripartire in modo coeso si dice, in modo fraterno verrebbe da dire da un punto di vista francescano.